ciao ragazze e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su investing guide bene naturalmente prima di iniziare un aggiornamento sulla situazione del mercato delle cripto volevo darvi subito notizie per quanto riguarda il mondo finanziario e non solo naturalmente prima di iniziare gradito sempre e ringrazio per i vostri like e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e attivate la campanella per ricevere i nuovi aggiornamenti video per quanto riguarda le notizie principali che ritengo di importanza sono quelle relative a finance che è stata registrata all'interno come bani in città di direttamente nella oa m organismo agenti e mediatori quindi tutto quanto autorizzato dalla consob con una ottima possibilità di interfacciarsi sugli strumenti derivati per i cittadini italiani e soprattutto una certa trasparenza che prima non aveva quindi ci ha pensato ha detto proprio che lo stato dell'arte in questo momento è quello che noi ringraziamo il ministro delle economie delle finanze e naturalmente della oa m per i loro sforzi in definitiva per definire praticamente controllare i necessari requisiti per operare in italia con il massimo della chiarezza e trasparenza questo diciamo il primo articolo che ritenevo utile per descrivere la situazione di binance il primo più grande exchange al mondo e per quanto invece riguarda la cripto voluta stabile ossia la stable coin tether la usdt il suo ticker è questo è stata lanciata all'interno della poligon ossia della formalmente la matic network ossia un praticamente una side chain che opera all'interno di eterium per permettere per transazioni molto più economiche e questo ha permesso permetterà sicuramente la crescita del dollaro tether in termini di market cap di capitalizzazione di mercato perché molti la utilizzeranno sempre di più visto anche il basso costo di trattazione ricordiamo che in precedenza dollaro tether era presente in diverse blockchain tra cui solana ethereum avalanche hellgrant tron omni eos liquidi network usama e bitcoin cash quindi ricordiamo su comunque sia per i bassi costi di transazioni in dentro poligon e il dollaro tether avrà sicuramente manforte e avrà uno sviluppo possente naturalmente mentre che vediamo il dollaro tether vediamo che principalmente il dollaro tether è utilizzato nelle reti eterium e tron questi sono i due grafici e mostrano proprio della le ragioni per la popolarità del dollaro tether su tron perché la block chain è molto economica e veloce rispetto a ethereum e quindi i traders usano i dollaro tether su tron più del movimento del della moneta all'interno della piattaforma quindi sempre praticamente grazie grazie ai bassi costi di transazione nella block chain tron per transire e quindi permettere lo scambio delle criptovalute lo stesso discorso vale per poligon e perché no sicuramente ci sarà un incremento della sua market cap ossia utilizzo tot complessivo della criptovaluta bene adesso andiamo a noi ossia nella principale ulteriore informazione che vi volevo dare e per questo dovete seguirmi fino alla fine per quanto riguarda l'utilizzo della della terra luna e terra naturalmente 2.0 in quanto naturalmente ci sono stati degli sviluppi per quanto riguarda il giorno tra il 27 e 28 ci sono stati naturalmente gli airdrop e quindi chi possedeva luna in precedenza sia comprati a costi più alti sia comprati a costi più bassi post naturalmente attacco quindi pre e post attacco ci saranno sicuramente valori diversi di quantità che riceverete però vi dico subito come fare per andare a visualizzarle al momento visualizzarle perché adesso dovremmo capire come su apparvi o quando saranno rioperative diciamo che se ne parla dopo il 30 di maggio vedere tutto un po di nuovo in linea online ma in generale per esempio su astroport dovete collegarvi direttamente sulla rete blockchain 1.0 quindi la terra classic luna classic per fare questo dovete andare presso la vostra estensione terra station wallet che vedete in alto a destra vedete mi soffermo cliccando su questa icona avrete la possibilità di visualizzare direttamente il vostro schermo classic dove vedrete direttamente le quantità vedete di luna e di altre criptovalute se cliccate sulla ruota dentata vi comparirà praticamente un elenco come network lingua tema e bilancio in realtà voi dovete cliccare direttamente su classic perché se andate sulla mainnet sarà la nuova terra 2.0 in realtà dovrete cliccare su classic per visualizzare le criptovalute naturalmente luna dollaro tetter eccetera eccetera in realtà per esempio per luna se andate a fare lo swap di luna 117.267 luna con un'altra criptovaluta per il momento vedete che è possibile convertire non in altro che stable coin algoritmiche in particolare mondo quella che stanno per morire che in realtà non vale molto anzi diciamo che ci sono anche ancor biluna mir e poi le azioni tokenizzate diciamo derivate dal sistema mirror protocol in generale se dovessimo farlo per il dolore terra che sapete quanto può valere vale ben poco diciamo che sarebbe forse intorno ai tre centesimi di dollaro adesso non ricordo bene questa transazione porterebbe a una simulazione di 453 dollari terra che al cambio attuale visto che valgono 0,03 dollari il valore in dollari tether là dove dovremmo trovare pure l'exchange in grado di fare il cambio con il dollaro tether rispetto a qualche altra cosa probabilmente avremmo sicuramente i problemi quindi diciamo di attendere per questo momento e in quanto a questa analisi che abbiamo fatto possiamo vedere subito la situazione del dollaro tether scusato contro il dollaro tether vedete che su coinbase abbiamo la coppia in questo momento è 0,03 centesimi di dollaro tether quindi se vogliamo cambiare il dollaro terra con una criptovaluta che è stabile rispetto a pegata rispetto a 1 a 1 con il dollaro americano il valore di 3 centesimi di dollaro quindi 100 monete sapete di che morte e morire diciamo che è inutile diciamo in questo momento muoversi ma visto che abbiamo ragionato di tutta questa analisi e stiamo parlando adesso di trading view diciamo subito che guardiamo la bitcoin dominance a 46.25 per cento quindi è andato salendo e ha raggiunto anche un picco del 46,89 per cento la dominance situazione sicuramente non positiva per le altcoin che soffrono perché gran parte si sposta verso bitcoin e vediamo anche ethereum dominance 18.06 lasciate perdere naturalmente il grafico dove avevo dato delle indicazioni di money management o soprattutto di sicurezza e privacy del vostro futuro o comunque non sono così finanziari ma semplicemente delle osservazioni diciamo di tipo finanziario sul mondo cripto in generale comunque vedete che la dominance bitcoin ha toccato un minimo e adesso sta ritentando di salire quindi signori siamo circa a 28.900 ha toccato un minimo nei giorni precedenti a 28.000 sembra non voler scendere al di sotto del minimo che in questo caso 25.400 il prezzo di bitcoin quindi si sta muovendo verso una barra di congestione che sembra andare a comprimere il prezzo anche se non va giù sotto il minimo dei 25.400 questo naturalmente potrebbe essere un segnale di alta volatilità che si sta formando tant'è che vedete che si sta muovendo al di sotto della media mobile a 12 periodi volendo potremmo anche cambiare la media mobile mettiamo anche quella 7 per capire un po' come si sta muovendo a livello giornaliero vedete proprio è quella la media mobile che non riesce a spondare e si trova praticamente a fare sempre candele ogni volta sempre più basse ma naturalmente i volumi sono bassissimi questo dice lunga sul concetto di volatilità potrebbe rompere nelle due direzioni però in generale sappiamo che ci sono delle situazioni macroeconomiche ma soprattutto anche di megatrend cioè quello ribassista che realmente potrebbero andare a segnare un ribasso verso i 25.000 se dovesse rompere poi la barriera del supporto a 25.000 tondi che è anche un valore anche netto e psicologicamente pulito potrebbe realmente andare giù ulteriormente questo naturalmente è un dato che ho detto anche nei video precedenti che possiamo osservare tramite GoCharting sito GoCharting.com che ci mostra in modo gratuito il volume profile di bitcoin vedete come siamo al di sotto di questi valori se dovessimo andare a dezummare per visualizzare i volumi maggiori si sono tutti concentrati nell'intorno dei 10.000 dollari e in questa situazione vedete come i volumi al di sotto dei 28.900 vanno a sottigliarsi sempre di più e questi sono i volumi che si trovano verticalmente nella posizione destra del volume profile sono diversi dai volumi che vedete qua sotto in ascissa in ascissa ci sono i volumi per periodo invece qua abbiamo i volumi per posizione di ordini quindi praticamente sono le posizioni rispetto al prezzo e non rispetto al tempo quindi ragazzi in questa situazione se dovessero esserci legato sia dei buchi nella volume degli ordini inseriti quindi non c'è nessuno visti che si tratta di criptovalute con dei volumi di mercato potenzialmente bassi rispetto ai mercati classici questo potrebbe portare a una discesa verso i 23.000 successivamente ai 18.000 e poi vedete che poi ci sono valori intorno ai 15.000 13.000 ma il grosso come vedete si trova come punto di controllo che gestisce praticamente il prezzo a cui la maggior parte dei buyer e dei seller sono disposti a darsela di santa ragione diciamo combattere seriamente nell'intorno dei 10.000 vedremo cosa accadrà se ci sarà una dirompente risalita di bitcoin quindi risponderà praticamente su questo supporto che come potete ben vedere in questo punto nel 2021 è stato toccato già due volte o quasi tre o quattro vedete che ci sono stati dei picchi shadow 1 2 3 4 e in in particolare al mondo altre due volte nel 28 gennaio e nel 2021 e del 21 gennaio 2021 quindi sicuramente stiamo andando a ribattere un prezzo che è sensibilmente storicamente significativo bene naturalmente possiamo andare per quanto riguarda terra luna anche a simulare il valore della vostra ricompensa tramite airdrop cioè mettendo qui dentro post luna o pre luna per esempio se voi doveste scrivere 100 luna qui vi darà il totale dei luna in unità di 116 luna che otterrete dalla dall'air drop se invece avevate post luna attacco diciamo per esempio 100 luna vi daranno come unità 102 scusate qua cancello mettiamo post luna 0,0014 luna quindi capite bene che è fatto in modo tale che coloro che hanno comprato a prezzi praticamente irrisori luna vanno a essere ricompensati molto meno rispetto a quelli che le avevano comprate a cifre molto importanti pre pre attacco diciamo il pre attacco quindi questa è un'altra cosa che vi volevo mostrare ragazzi per quanto riguarda la coin market cap vediamo che siamo intorno ai 1200 miliardi leggermente in discesa la situazione vede bitcoin è sempre primo perde un per cento contro il terno ne perde bene il 9 per cento e 52 tether stabile intorno a 0,99 dollaro circolo stabile a 1 con una piccola perdita di market cap binance ossia il ticker bnb di binance al quinto posto con circa 50 miliardi ripple a 0,38 dollaro a 0,99 cardano e chiude solana alla nona posizione con 15 per cento di discesa è quella che invece chiude la decima posizione delle prime dieci e dogecoin con un 10 15,8 miliardi di capitalizzazione bene ragazzi spero di esservi stato utile con questo video di aggiornamento per quanto riguarda il mercato cripto dimenticavo di dirvi che nell'articolo precedente al dollaro tether abbiamo dimenticato che praticamente c'è stato anche il tether ha lanciato una nuova stable coin pegata al pesos messicano ed è scritto riportato proprio qui che tether ha lanciato una sorta di moneta stable coin pegata proprio con il pesos americano per diffondersi in america latina allora vi ringrazio spero di avervi dato news informazioni anche su luna che possono essere utili mi metterò tutti i link in descrizione per poterli poi aprire successivamente grazie e buon sabato sera ciao